Parolisi può chiedere permessi premio e il padre di Melania si appella al giudice. Sono trascorsi nove anni da quando l'ex caporal maggiore Salvatore Parolisi massacrò Melania Rea con 35 coltellate per poi lasciarla agonizzante nel bosco di Ripe di Civitella del Tronto. Un disgustoso caso di violenza di un uomo su una donna per cui il militare era stato condannato all'ergastolo in primo grado, pena ridotta in appello e cassazione, fino a quella definitiva di vent'anni di reclusione che sta scontando nel carcere milanese di Bollate. La condanna era aggiunta quando ancora non esisteva la legge contro il femminicidio. Oggi Parolisi, come previsto dalla legge, può chiedere permessi premio il che significa che potrebbe uscire di galera per un tempo non superiore a 45 giorni all'anno poiché ha già scontato metà della pena. E nelle condizioni di poterlo fare fanno i saperi legali dell'uomo ma per il momento non sono state presentate in stanze di nessun tipo. Benché Parolisi non abbia ancora chiesto di poter uscire, Gennaro Rea, il padre di Melania, si appella al giudice di sorveglianza, la figura che accorda o respinge i permessi premio. Pensi a noi vittime, dice Gennaro, che cresce la bambina di Melania che all'epoca di fatti aveva solo 17 mesi. Per mia figlia uccisa non c'è stata nessuna giustizia, afferma l'uomo, che forse spera in una flebile consolazione immaginando l'assassino ancora in gabbia. Manca la certezza della pena, le parole di un papà condannato a soffrire tutta la vita la mancanza della figlia. La storia tuttavia insegna che le pene e anche i metodi coercitivi più brutali non influiscono sul numero di reati commessi. La legge sul femminicidio introdotta nel 2013 e il codice rosso divenuto legge lo scorso anno si propongono di contrastare la violenza di genere ma non hanno impedito che troppe donne venissero sopraffatte. Nel 2019 in Italia 74 donne sono state ammazzate da uomini. Dall'inizio del 2020 ne sono state già uccise altre 28. È meglio prevenire i delitti che punirli, scriveva Cesare Beccaria in dei delitti e delle pene, e se tante donne continuano ad essere uccise solo perché donne da parte di uomini che credono di poterne decidere vita e morte, allora occorre in primis distruggere quei retaggi patriarcali che ancora oggi generano una gerarchia nei rapporti tra uomo e donna e questo affinché non esistano più uomini deplorevoli come Parolisi disposti a uccidere colei che ritengono possa ostacolare, come nel caso del militare, la carriera o un'altra storia sentimentale.